Dei. No, demoni. Sono lieto che siate qui congiunti. Oh, agnelli del Dio che non è stato creato dall'uomo. Spero godrete anche voi di questa sacra celebrazione notturna. Tu, Falco, sei il figlio deciso dalla ruota del destino. Sei il prescelto. Il Dio supremo ti ha eletto e ti ha fatto essere presente qui in questo momento. Così ha voluto e stabilito per te. Sì, nostra progenie, oh re dei desideri. Che cosa? Griffith sarebbe... sarebbe uno di loro. Griffith è come loro. Maledetti. Sono solo menzogne! Ma, gazz! Progenie, ruota del destino! Sono tutte menzogne! Io l'ho visto anche nudo! Lui non è minimamente come voi schifosi mostri! Ma che magnifica e toccante amicizia! Diventerai una vittima sacrificale d'eccezione. È meraviglioso! Vittima sacrificale? Esatto! Voi tutti diverrete sacrifici per renderlo un signore del male. Quando è entrato in possesso del Berit, crevisi, lui ha acquisito il privilegio di diventare un signore del male. Quello è l'uovo del re dominatore. Permette a chi lo possiede di divenire un angelo guardiano, membro della mano di Dio. E voi tutti siete mirabili sacrifici irrinunciabili per acconsentire l'affetto. È un incubo che io sto sicuramente soggiando. Quindi volete trasformare Griffith in un mostro come voi? E lo farete in cambio delle nostre vite! La realtà è un po' dissimile, perché ciò accadrà per sua volontà. Sarà proprio lui stesso a offrire ognuno di voi in sacrificio. Oh! 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 Oh!